Halloween Hens ragazzi, aspettativa ormai pari allo zero ma tanta curiosità nei confronti del capitolo finale della trilogia sequel di Halloween di Carpenter Halloween di Carpenter inarrivabile, ci tengo a specificare, come inarrivabile è il livello di bassezza di questa intera operazione firmata David Gordon Green e con alla scrittura anche Danny McBride, noto membro del frat pack della comicità americana assieme a Seth Rogen, Craig Robinson, Michael Serra eccetera, si poteva decisamente fare di più ma le premesse infatti si esauriscono subito nel 2018 cavalcando il movimento del Me Too e con una Laurie Strode ancora incapace di vivere un'esistenza equilibrata, appesantita dall'ombra di Michael che ancora la tormenta dopo il confronto ottimamente realizzato dagli ultimi 40 minuti, da salvare del film del 2018, la saga prende delle direzioni inaspettate coraggiose nelle intenzioni ma stupide e prive di mordente nel concepimento delle idee e nella realizzazione dalla rabbia alimentata in quel di Haddonfield, con abitanti pronti a imbracciare armi, forconi per debellare il male contagioso rimanendo però influenzate a loro volta dal morbo, al passaggio di testimoni in ends con un nuovo protagonista che prende le redini di Michael Myers, seminando panico e terrore in città nobile tentativo, da parte questa volta di otto mani in pasta nella sceneggiatura che hanno bisogno addirittura di compiere un salto temporale e arrivare ai giorni nostri, nel 2022 quando il tutto doveva essere ambientato in una sola singola notte di Halloween del 2018 non era necessario, punto primo, e in secondi se rendi la trilogia discontinua, sconnessa, confusionaria nel presentare il main focus, cioè il punto di arrivo di una morale che cambia di continuo si rimodella di capitolo in capitolo secondo i desideri degli scrittori di stupire a tutti i costi lo spettatore e io mi sono perso, sinceramente parlando, a guardare l'orologio in attesa di una uccisione ad effetto o comunque in attesa della comparsa di Michael Myers in grado di sterminare qualsiasi cosa gli venga incontro 40-50 minuti di prologo in un terzo e conclusivo capitolo per arrivare poi al desiderato scontro con Laurie Strode ma quanto costava concentrarci unicamente sulla sopravvissuta in lotta dopo la morte di sua figlia in Kills e su Michael Myers ormai fuori controllo dopo essere stato deriso e torturato dagli stessi abitanti di Haddonfield non me lo spiego, non è concepibile e sostanzialmente abbiamo perso 4 anni di vita per ricavarci l'unico combattimento che poteva contare in questi ultimi 20 minuti di Halloween Ends quindi si gira prepotentemente a vuoto con il concetto di male rinato, del maligno che si diffonde come un virus roba che ti viene spiegata, detta anche in faccia, dalla stessa Laurie persino in voiceover e ripetutamente, come se non l'avessimo capito il più grande difetto di questi ultimi due Halloween è che si vorrebbe essere elevati col materiale a disposizione inserendo dei sottotesti che tentano di rendere mitologica la figura di Michael cioè un'entità sovrannaturale che si prepara per il giudizio universale riservato ai peccatori di Haddonfield peccatori che si rifanno ai sostenitori di Donald Trump e dall'idea di America Great Again America Great Again è tutta scena perché rimane solo uno slogan e non viene attualizzato sinceramente mi si è perso un po' la rotta non si sa di che cosa si vuole parlare in una sintesi che in verità serviva per far scontrare semplicemente le nostre icone prelevate dal 1978 invece in Halloween Ends cambio di passo, cambio di prospettiva, tirata di freno a mano la scelta azzardata di spostarci su un altro protagonista per quasi tre quarti di film e spingere sull'interesse amoroso della nipote di Lori e della sua voglia di evadere dalla città carino per uno spin-off o per una puntata su Netflix in un titolo teen horror ma assolutamente non richiesta per questa scelta un finale di saga che si rifà gli errori compiuti da Episodio 9 di Star Wars o Jurassic World il dominio personaggi sacrificati quando dovevano essere di rilievo trama completamente reinventata dopo la conclusione del precedente capitolo poi nuovi spunti narrativi che si allontanano da quello che il pubblico desiderava di vedere in quelli che vengono spacciati come finali di saga ripetiamo e attori sottotono che si prendono il loro cachet e si tolgono di mezzo per dedicarsi ad altri film più meritevoli di considerazione no, non ancora non con Halloween che viene violato e sfruttato dalla Blue Mouse come se fosse una Lorona o un Denan qualsiasi ovvero una sorta di capitolo extra non del Conjuring Universe ma dell'Halloween Universe che sbuca fuori per portare gente al cinema niente di più, niente di meno anzi decisamente meno rispetto alla qualità che si voleva raggiungere poi cosa abbiamo? Jamila Curtis come Michael Myers relegata a ruolo secondario o apparizione speciale a modi cammeo ah già che ci sono anch'io in questa carrozza mi devo mostrare perché sennò i fan si lamentano abbiamo anche la regia anonima che non ci regala più nulla di convincente o degno di nota dopo le uccisioni brutali di Kills musica che gira attorno al tema principale e può solo aggrapparsi a quella per non crollare in termini di resa e il nostro villain che viene trasformato in una sorta di Venom, di Spider-Man 3 di Raimi per intenderci vorrebbe ma non può nutre il desiderio di imporsi sulla scena ma viene prontamente ridimensionato dagli sceneggiatori e quindi si tratta di un fallimento memorabile di una caduta di stile imperdonabile una trilogia che non doveva esistere tenetevi pure cori io mi tengo Carpenter questo è il nostro nuovo slogan qui Antonio Cianci Ira Catafilm per voi con opinione a grandi linee sulla trilogia sequel di David Gordon Green e parere su Halloween Ends ha finito fatemi sapere se lo avete già visto sotto nei commenti vi aspetto un saluto e un abbraccio carissimi seguaci di Ira Catafilm ciao a tutti alla prossima ciao a tutti